Sbloccare sarebbe forse un po' più facile a quel punto, anche se la squadra finilana continuerebbe ad attaccare. Allora Menez, vediamo un po', Menez può puntare, Menez vuole accelerare, Menez fa tutto lo so, Menez, Jeremy, go, 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 è un gol straordinario, il fenomeno, Jeremy, Menez, che gol ragazzi, questo è un mostro di dimensione internazionale. Cosa ha fatto adesso? Anche Adriano va a salutare un gol così bello, così spettacolare, Jeremy. Questo è un grandissimo gol, quando lui gli lasci campo, lasci puntare e lo fa a grande velocità abbinando quella qualità, è straordinario come punta rientra e poi cerca il palo lungo, un grandissimo gol veramente. Ho letto il labiale del suo amico Mexes, Abucic ha detto che roba, e qui guarda come fa fuori l'avversario con l'estero del destro, Jeremy Menez, è quello che veramente può far sognare il pubblico della Roma in prospettiva e alla grande. Ma come è bravo nel secondo controllo, qui come subito sposta, rientra e è già pronta alla conclusione, un grandissimo gol. Al ventiquattresimo, il talento, il genio di Jeremy Menez, 1-0 per me. Che giocatore adesso. Extraordinario, un grande gol veramente. Qui con un tocco, tra l'altro si sistema anche la palla per la successiva conclusione a giro. Sì, sì, lui già aveva capito come, in base al pressing di entrambi i difensori, come rientrare, già visto, ha anche fatto un mezzo cucchiaino, diciamo così, per dribblare ed evitare l'intercettazione del difensore e poi pronta già la conclusione sul palo lontano.